Queste sono le barche della squadra agonistica degli Amici del Fiume, sono tutte barche di carbonio, sono state incendiate a partire dall'otto, quella barca gialla che si vede qua sotto, sono state incendiate, hanno preso fuoco anche tutte le barche sugli stalli superiori, di quelle superiori non resta praticamente nulla perché essendo di materiali plastichi e carbonio si sono completamente consumate. E' chiaramente stato riconosciuto come un incendio doloso, mentre da questo lato è solo il calore delle barche che bruciavano che ha fuso la plastica delle altre imbarcazioni. Quindi l'incendio è partito da questa parte? E' partito dal lato fiume, sì.